Deteneva fucili rubati nascosti in un'azienda agricola di Vittoria di cui era socio, arrestato un 33enne vittoriese. La polizia non esclude che uno dei due fucili sia stato utilizzato per un gesto intimidatorio. Ancora una seduta a vuoto del Consiglio Comunale di Ragusa, la terza in 72 ore a causa delle schermaglie politiche che fanno venir meno il numero legale, chieste le dimissioni di alcuni consiglieri da più parti. 12 nuove assunzioni a Modica entro la fine dell'anno sarebbero rese possibili nonostante le distrettezze economiche, grazie al rispetto del patto di stabilità certificato per il 2016. Il personale ex doposcolista del Comune di Modica ancora in attesa di sapere il proprio futuro dopo la soppressione del servizio a settembre, oggetto di una nota del PD dai toni molto duri. A Pozzallo i componenti del PD che non si sono autosospesi come fatto da altri, che seguono il candidato sindaco a Matuna esprimono il loro sostegno all'altra candidata Paoletta Susino. Voto a giugno. Ben trovati con l'informazione di Canale 74, deteneva fucili rubati in nascosti in un'azienda agricola di Vittoria di cui era socio. Per questo motivo è stato arrestato un 33enne vittoriese. La polizia non esclude che uno dei due fucili possa essere stato utilizzato per un gesto intimidatorio. Potrebbe esserci un possibile legame secondo gli inquirenti tra i furti di armi e i colpi esplosi l'altra notte a scopo intimidatorio contro i veicoli di un incensurato ed il sequestro di due fucili rubati di cui uno aveva peraltro sparato da poco con conseguente arresto del vittoriese 33enne Giuseppe Ingala che deteneva illegalmente armi e munizioni nascosti in un'azienda agricola di cui era socio. I fucili erano stati rubati a Vittoria Ragusa pochi giorni fa e alla luce di ciò l'uomo deve rispondere anche del reato di ricettazione. A seguito delle denunce di furto di armi delle ultime settimane e dei colpi esplosi come accennato ai danni dei due veicoli danneggiati sul parabrezza e sul cofano, escludendo la matrice mafiosa del gesto intimidatorio, la polizia aveva visionato decine di immagini estratte dagli impianti di videosorveglianza. E così i due fucili rubati sono stati alla fine trovati in un'azienda agricola nascosti sotto della plastica dismessa così come le numerose munizioni. Gli investigatori hanno accertato che le armi sono oggetto di due recenti furti consumati a Ragusa e Vittoria in abitazioni private. Uno dei fucili aveva sparato da poco e sempre secondo gli inquirenti. Potrebbe quindi essere quello utilizzato per danneggiare due veicoli di proprietà dell'incensurato vittoriese che, sentito dalla stessa polizia, non si sarebbe saputo spiegare il motivo del gesto intimidatorio. A termine della perquisizione in gara i altri soci della cooperativa sono stati condotti in questura. La scientifica ha sottoposto ai rilievi fotodattiroscopici tutti i proprietari dell'azienda agricola denunciandoli in stato di libertà e arrestando solo in gala che ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla detenzione illegale delle armi. Ancora una seduta a vuoto del Consiglio Comunale di Ragusa, la terza in 72 ore a causa delle schermaglie politiche che fanno venire meno il numero legale. Chieste le dimissioni di alcuni consiglieri da più parti. Continua la pessima figura del Consiglio Comunale di Ragusa. La responsabilità sembrerebbe bipartisan ricadendo sulle irresponsabilità di maggioranza che di opposizione. Da più parti si chiedono le dimissioni di chi avrebbe il vizietto di non presentarsi in aura agli appelli. Molti sarebbero infatti consiglieri recidivi nelle assenze che anche se intese dai più come mosse politiche non fanno bene alla città. Non a caso si sono registrati tre appelli in soli due giorni ma nessun inizio dei lavori con l'ennesimo rinvio anche ieri sera della seduta del Consiglio. Botte risposta di accuse e controaccuse sulle responsabilità e ormai anche dai social network esponenti politici e cittadini chiedono le dimissioni come accennato dei responsabili di dare stato di cose e se è vero che i 15 della maggioranza e non più 16 mancando la marabita all'appello tra le fila dei grillini non bastano più per il numero regale non erano abbastanza nemmeno al terzo appello quando di consiglieri ne servivano solo 12 per iniziare i lavori. L'opposizione gioca le sue carte e sottolinea la mancanza dei numeri nella maggioranza facendo a sua volta bene e meno il numero regale. Massimo Agosta capogruppo dei 5 Stelle chiede pure lui le dimissioni di tutti coloro che hanno disertato Laura sia tra la maggioranza che tra l'opposizione rimanendo però poi egli stesso fuori da Laura ad ascoltare l'appello ed entrando quando credeva che il numero regale fosse stato raggiunto mentre nei fatti non c'era. I consiglieri presenti parlano quindi di consiglieri irresponsabili puntando il dito contro colleghi di partito e non. Siamo indignati per quello che sta accadendo. È inconcepibile che non si presentino neppure in 12 per la riconvocazione il giorno dopo che il consiglio comunale era già stato sciolto per mancanza del numero regale. Lo dice il capogruppo del PD al consiglio comunale Mario Dasta a proposito della inconcludenza della maggioranza pentastellata. Siamo alla frutta, continua Dasta, la maggioranza non ha più alcun interesse a gestire l'ordinarietà e la straordinarietà delle vicende cittadine. 12 nuove assunzioni a Modica entro la fine dell'anno sarebbero rese possibili nonostante le ristrettezze economiche grazie al rispetto del patto di stabilità certificato per il 2016. La giunta comunale modicana ha approvato una delibera riguardante la spesa che l'ente potrebbe sostenere per il 2017 per l'assunzione di 12 nuove figure professionali da immettere nel personale comunale. Si tratterebbe di due posti in categoria D1, sette posti in categoria C, altri due posti in categoria B e infine anche un posto in categoria A. Un incremento del personale che cozzerebbe con i tempi di ristrettezza economica. Tuttavia le potenziali nuove assunzioni sarebbero rese possibili già quest'anno grazie al rispetto del patto di stabilità che è stato certificato per il 2016 in correlazione alle riduzioni di personale operati lo scorso anno sotto forma di prepensionamenti. In particolare le nuove assunzioni riguarderebbero il processo di conciliazione per il personale ex contrattista. Nella delibera è spiegato che le nuove assunzioni sarebbero previste nel pieno rispetto delle normative in materia di nuove assunzioni e secondo le modalità previste dalla legge. Stando a quanto riportato gli enti locali potrebbero procedere alle assunzioni di personale nei limiti dell'80% della spesa corrispondente alle cessazioni del servizio verificatesi negli anni precedenti. Il prepensionamento dei 79 dipendenti modicani del 2016 concederebbe dunque lo scatto economico per l'assunzione dei 12 che potrebbe già avvenire nel corso di quest'anno. Il personale ex doposcolista del Comune di Modica ancora in attesa di sapere il proprio futuro dopo la soppressione del servizio a settembre è oggetto di una nota del PD dai toni molto duri. Il PD di Modica in una nota ufficiale interviene duramente contro la possibile assegnazione del personale ex doposcolista ancora in attesa di sapere il proprio futuro dopo la sospensione del servizio a settembre come personale insegnante al nido comunale. Già da settimane i genitori dei bambini che frequentano la struttura comunale sono sul piede di guerra dopo le voci non ufficiali che riguarderebbero la sostituzione del personale anche se più volte sarebbero stati rassicurati sul mantenimento dei servizi ai bambini. L'amministrazione avrebbe infatti rassicurato le famiglie su una implementazione del servizio ma ancora non ci sarebbe nulla d'ufficiale. Il PD a margine di questa vicenda interviene con una nota per denunciare la propria contrarietà a nominare personale ex doposcolista femminile come personale del nido comunale. Il PD critica espramente la scelta dell'amministrazione che secondo loro penalizzerebbe da una parte la professionalità dei docenti, dalle altre bambini e le famiglie con la scelta di personale senza esperienza per i più piccoli. Secondo il Partito Democratico si sarebbe dovuto attingere ad una gradutoria di soggetti idonei che il comune dovrebbe avere. La scelta riguarderebbe solo il personale femminile, ritenuto, scrive il PD evidentemente più adatto ai cambi di pannolini e affini. Il Partito Democratico attuona dunque contro la scelta che nella loro visione risulterebbe oltretutto legata a stereotipi di altri tempi contro la parità di genere. I grillini a Modica propongono una sinergia per tutelare le aree verdi, un'idea che nasce a seguito degli atti vandalici che hanno colpito il parco di San Giuseppe Utimpuni. Interviene anche il Movimento 5 Stelle di Modica in seguito agli ultimi atti vandalici avvenuti al parco San Giuseppe Utimpuni con proposte che coinvolgono i cittadini su un progetto generale di valorizzazione e uso delle aree verdi. I pentastellati ritengono che come già fatto in altri comuni siciliani più virtuosi si debbono mettere in atto delle politiche di coinvolgimento della cittadinanza per favorire rispetto e la valorizzazione di tutti gli spazi pubblici cittadini, con il recupero dei parchi strappandoli dal degrado. Quello che auspicano è un patto tra il Comune e gli organismi di partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni politiche amministrative. I grillini ritengono concreta la possibilità di un'azione di riqualificazione urbana, ambientale e sociale, esaltando competenze e capacità progettuali a tutela e promozione delle aree comuni, coinvolgendo la comunità alla gestione della cosa pubblica, incentivando le piccole imprese del territorio e il turismo. Importante per il Movimento 5 Stelle il supporto della società civile e di tutti coloro che possiedono già competenze nel settore e che vogliono mettersi a disposizione della città per cancellare il degrado dei luoghi dove vivono, con progetti di interventi per ottenere fondi strutturali comunitari 2014-2020, da destinare alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana e sociale del patrimonio ambientale, storico-culturale, immobiliare e degli spazi pubblici comunali. Può essere il motore di questa iniziativa. Un'iniziativa, insomma, che vuole incentivare la coesione sociale e culturale per far crescere in ogni cittadino la consapevolezza che il bene pubblico va ottimizzato, promuovendo anche la conservazione e il miglioramento dello stesso. Sono in pagamento a modi che i buoni libri delle scuole dell'obbligo relativi all'anno scolastico 2013-2014. Sono più di mille le famiglie modicane che beneficeranno di questo contributo economico per un totale di circa 200 mila euro. Per ritirare il proprio buono è sufficiente recarsi a partire da martedì 21 marzo presso uno sportello Unicredit muniti di documento di identità. Una boccata di ossigeno per i contribuenti di Vittoria, grazie alla dilatazione dei termini di pagamento dei tributi per quanti non sono riusciti a rispettare le scadenze. Ecco quindi quali sono i provvedimenti adottati. Venire incontro alle numerose richieste dei cittadini vittoriesi che chiedevano più tempo per sistemare la propria posizione debitori anche allo scopo di evitare fastidiosi accavallamenti di scadenze. Con questo obiettivo la Commissione consigliare programmazione bilancio del Comune di Vittoria presieduta da Monia Cannata ha esitato la proroga della scadenza riguardante la definizione agevolata delle entrate comunali. Dal 31 marzo la scadenza è stata spostata in avanti di tre mesi, il 30 giugno, i tributi interessati sono IMU, ICI, TARE, STAR, SU, TARI, Imposta Comunale sulla pubblicità, Cosa, Peccano e Idrico. La definizione agevolata, chiarisce il Vicepresidente della Commissione Agatha Iaquetz, consigliere comunale di Ria Via Vittoria, fa riferimento ai tributi non riscossi negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. I debitori potranno estinguere il debito senza corrispondere alle sanzioni dovute. L'è previsto per estinguere tale debito un numero massimo di rate pari a 10. Sul sito del Comune di Vittoria è già disponibile l'apposita modulistica. Un'altra circostanza importante da evidenziare è che l'adesione alla definizione agevolata può essere esercitata pure dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, insomma dovute. Riteniamo, conclude la Cannata, che si tratti di una grande opportunità che i cittadini che non hanno potuto corrispondere quanto dovuto per difficoltà varie dovranno cercare adesso di cogliere al volo. L'assessore ai tributi, Andrea Larosa, interviene nel dibattito in corso sugli accertamenti IMU 2012. Come già discusso in Consiglio Comunale, dichiara Larosa, la problematica è rientrata. Sono stati emessi 4.200 avvisi, dei quali circa 400 errati, soprattutto per la mancata indicazione dell'abitazione principale. Gli uffici si sono subito attivati e dopo alcuni giorni la situazione al front office è tornata alla normalità, anche se l'afflusso di pubblico è ancora particolarmente consistente perché l'amministrazione comunale ha voluto venire incontro ai contribuenti provvedendo a definire un condono dei tributi locali che permette di sanare la posizione debitoria senza sanzioni e interessi e con una lunga rateizzazione di 10 rate bimestrali. I componenti del PD che si sono autosospesi come fatto da altri che invece seguono il candidato sindaco Roberto Ammatuna esprimono il loro sostegno all'altra candidata sindaco Paoletta Susino. In una nota viene spiegata la loro visione d'insieme. La politica deve tornare ad essere motore della rappresentanza e partecipazione recuperando il suo ruolo di interprete dei bisogni della collettività e strumento di proposta per migliorare Pozzallo. E' questo l'incipit di un comunicato a firma dei tesserati superstiti del Partito Democratico della cittadina marinara in vista del voto per le amministrative di primavera e per il quale altri compagni di partito si sono invece autosospesi. I sottoscritti tesserati del PD di Pozzallo si continuano a leggere nel documento che porta in calce le loro firme. Desiderano esprimere il pieno ed incondizionato sostegno alla candidata sindaco Paoletta Susino ritenendo la sua candidatura la migliore scelta per il rilancio del partito e dell'amministrazione di Pozzallo. Si ritiene inoltre che il commissariamento del circolo cittadino possa rappresentare oltre che un valido sostegno alla organizzazione della campagna elettorale e delle fasi congressuali una importante occasione per costruire insieme un nuovo percorso. Si manifesta dunque, conclude la nota, l'intenzione di lavorare in sinergia con il commissario per ricostruire a Pozzallo un PD pluralista democratico ed aperto alla città. La Susino aveva tra l'altro manifestato l'intenzione di proseguire per la sua strada dopo l'autosospensione dal partito di altri tesserati che sostengono il candidato sindaco Roberto Ammatuna, pure lui autosospesosi per concorrere alla poltrona di primo cittadino assieme alla Susino e ad altri cinque candidati. Il PD di Pozzallo, alla luce di tutto ciò, non aveva comunque inteso parlare di scissionismo come invece è accaduto in ambito nazionale. E si è svolto a Ragusa un vertice per discutere del rischio idrogeologico a Modica e non solo. E' stato fatto il punto della situazione per il futuro dopo il nubifragio dello scorso gennaio che ha causato tanti danni. Proficua riunione con i tecnici della protezione civile a Ragusa, la presenza tra gli altri del sindaco e dei tecnici comunali di Modica, una delle città più colpite assieme a Scicli dal nubifragio dello scorso gennaio. Nel corso del vertice si è parlato dei primi interventi post alluvione di quelli da fare in futuro per mitigare il rischio idrogeologico e scongiurare e ripetersi delle scene viste nell'ambito del nubifragio che ha rovinato aziende, negozi e private abitazioni con danni davvero consistenti. Sono stati individuati alcuni progetti nel piano triennale delle opere pubbliche per un ammontare di circa 10 milioni di euro da inviare a Palermo per partecipare ai finanziamenti messi a disposizione dalla regione tramite i fondi POC. Si è pensato inoltre di poter intraprendere un percorso di convenzione con l'Università di Catania per uno studio ed una progettazione riguardanti il torrente Passogatta, uno dei più insidiosi dal punto di vista idrogeologico. Si sta dunque cercando di mettere in campo misure che mancavano al Comune di Modica grazie alla collaborazione tra la protezione civile regionale, il Comune stesso e la Regione in modo da intervenire strutturalmente per eliminare il rischio idrogeologico per l'intera città modicana. La Polizia Stradale di Ragusa è impegnata in tutta una serie di progetti volti all'educazione dei più piccoli, tante le scuole che sono coinvolte. Anche quest'anno la Polizia Stradale di Ragusa porterà avanti nelle scuole del territorio eblea un forte di intenso impegno di educazione alla legalità con diversi progetti. Primo tra tutti ricordiamo il progetto di educazione stradale Icaro giunto alla 17esima edizione. Quest'anno il messaggio che si vuole lanciare è guidare, non si coniuga con telefonare o usare WhatsApp. In particolare questa iniziativa coinvolge i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e le prime classi di quelle di secondo grado, con i quali si affronteranno le tematiche e le problematiche relative alla guida delle due ruote. Un altro importante progetto riguarda i più piccoli, gli alunni delle scuole primarie Bici Scuola 2017, con lo scopo di formare al rispetto delle regole sin dalla più tenera età i futuri utenti della strada. Il corso incentrato sulla visione di video tutorial che illustrano comportamenti corretti e scorretti e su interviste a personaggi significativi e dal loro rapporto con la bicicletta. Nelle scuole superiori invece la Polizia Stradale sarà presente con il progetto Faranno Strada di Sicuro Giovani Artisti per la Sicurezza Stradale, giunta al quarto anno. Un'iniziativa che vuole sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole del codice della strada attraverso l'arte nelle sue svariate forme, ricordando che la principale causa di morte per i giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni è l'incidente stradale. Infine ad aprile si terrà la manifestazione finale a Palatenda di Ragusa, in cui si esibirà l'orchestra di Peppe Rezzo e i ragazzi delle scuole, presenti anche i D-Cube e i Dynamo Svm, gruppi musicali blei già molto apprezzati fra i giovani. E dei giorni scorsi la notizia della Costituzione della Comunità della Dieta Mediterranea Unesco, un marchio che rappresenterebbe i valori fissati dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale del 2003. Tante le novità per la dieta mediterranea. Un recente studio condotto in Australia rende noto come la depressione si vince anche a tavola grazie proprio alla dieta mediterranea. Infatti su 67 più azienti coinvolti, tutti con depressione da moderata grave, per coloro che hanno condotto una dieta sana, dopo le 12 settimane il livello di depressione è calato, se non addirittura scomparso. Mentre è di pochi giorni fa la notizia che il commissario straordinario del libero consorzio comunale di Ragusa, Dario Cartabellotta, intende dare corso alla costruzione della Comunità della Dieta Mediterranea Unesco. Si tratta di un nuovo modello di valorizzazione della dieta mediterranea. La scelta di costruire questa nuova comunità nasce da un'attività di marketing territoriale finalizzata a determinare ulteriori occasioni di sviluppo economico dei settori produttivi più rilevanti dell'area eblea e questo marchio sarebbe la rappresentazione dei valori fissati nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 e dei criteri scelti dall'UNESCO per l'individualizzazione dei valori universali della dieta mediterranea, già ampiamente apprezzati in tutto il mondo. E ora allo sport e calcio con una panoramica delle squadre impegnate nel campionato di promozione e in quello di prima categoria. Conte alle giornate il città di Ragusa sempre caprista della classifica del girone di di promozione. Mancano se incontri alla fine più il recupero di mercoledì 22 per la partita annullata per errore arbitrale contro l'atletico Catania. Gli azzurri si tuffano nel campionato dopo aver abbandonato la Coppa Italia per via della doppia sconfitta contro il Canicattì. La squadra di Lavaccara non ha un calendario facile dato che le aspettano tre derby di fila che deve giocare con Santa Croce, Vittoria e Marina di Ragusa, oltre alla sfida con l'atletico Catania. Un finale di campionato molto impegnativo che la società si appresta ad affrontare con la massima concentrazione. Domani la sfida contro i cittadini Asci, Sant'Antonio e poi si vedrà. Impegnativo in casa il Santa Croce contro le Aquile Cataline. Il Marina di Ragusa porta a casa tre punti a tavolino contro l'Adrano, mentre il Vittoria gioca fuori casa contro il Paternò. I Biancorossi, reduci del K.O. della scorsa settimana, affrontano le Falcone Borsellino e la squadra etnea seconda in classifica. In prima categoria il New Modica cerca la conferma del distacco che ha in classifica di ben otto punti contro l'atletico Scicli, mentre Frigintini cercherà di accorciare il passo contro il Persicli che lo segue in classifica. E' partita oggi alla volta di Napoli la Passalacqua Ragusa che domenica alle 18 gioca quello che sarà uno degli impegni più importanti della stagione contro l'attuale quinta in classifica. La squadra di Coccero Cupido, staccata di due punti, con una vittoria aggancerebbe le partenopee in classifica e le supererebbe in virtù del doppio scontro diretto a favore. Un piccolo vantaggio che potrebbe diventare significativo in chiave play-off. Con questa notizia sportiva è tutto, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.